Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Roberto Di Giacomo. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della regione toscana. Infipilli possibili ralentamenti per lavori tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in ambo i sensi di marcia. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza tra Montelupo e Ginestra, percorsi alternativi sull'SP12 o per viaggi più lunghi sull'autostrada 11. La statale 64 porrettana è chiusa tra Pavana e Ponte della Venturina a causa di una frana. Per quanto riguarda la viabilità cittadina in via Crimea per lavori a Edeli da lunedì 2 a mercoledì 4 settembre, l'orario 8.18 sarà chiusa da via del Romito a via Costeria. Morsi in Toscana Info in servizio collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Anche per oggi è tutto, a domani, buon viaggio! Grazie a tutti!